Allora, questa grande, grande, grande cosa è veramente una cosa immensa, grandissima, vi aspettiamo tutti perché dovete sapere che nel 2026 i Poo festeggiano 60 anni. Non è una cosa che succede tutti i giorni, allora siccome avremmo intenzione forse di festeggiare anche i prossimi, non si sa mai, però intanto festeggiamo insieme questo sessantennale nel 2026, vi aspettiamo tutti, grazie!